siamo quest'oggi a torino nella sede di lavazza la cosiddetta nuvola e abbiamo qui accanto a noi Paola che si occupa proprio di talent acquisition e chiediamo quindi di spiegarci cosa sta facendo la sua azienda per migliorare il processo di selezione dei giovani talenti. Buongiorno innanzitutto l'avazza da qualche anno sta attraversando un periodo, un momento di grande trasformazione e fermento da azienda familiare ad azienda internazionale, globale e multichannel. Quindi abbiamo voluto strutturare un processo di talent acquisition innovativo per consentire al candidato di avvicinarsi alla nostra realtà aziendale e di farsi conoscere oltre alla carta il curriculum vitae. Quindi avete deciso di rinnovare questo sistema con particolare riferimento ai giovani, ai talenti. Ecco, il perché e il come di questa innovazione, cosa in particolare avete messo in campo proprio per migliorare il sistema di selezione? Stiamo implementando dei nuovi sistemi digitali di recruiting quali il videocolloquio e la gamification per testare le soft skill del candidato ma attraverso un viaggio interessante ma anche divertente nella storia del caffè. Abbiamo aggiornato il nostro sito Careers, pubblichiamo attivamente gli annunci, lo monitoriamo quotidianamente, collaboriamo con i maggiori poli universitari italiani e partecipiamo ai numerosi Career Day. Abbiamo ormai ampliato il bacino a tutto il territorio nazionale. Grazie a tutti